Ciao a tutti ragazzi, sono Nel Amico Stato e benvenuti a un nuovo video! Oggi iniziamo una nuova rubrica, una rubrica che ho già, tra virgolette, iniziato sulla pagina Facebook, che era sostituita il nome Videomarcio. Insomma, oggi inizieranno i video acquisti, quindi direi subito di iniziare a farvi vedere i video acquisti di questo mese di aprile. Faccio questa rubrica anche per incepivarvi di più e coinvolgervi di più e direi di iniziare. Innanzitutto, a fine video ci sarà una piccola sorpresa, una sorpresa tosta, quindi direi subito di iniziare. Direi di partire assolutamente dagli acquisti della Panini Comics e quale dei personaggi che più adoro della Panini Comics. Sto parlando di Ratman, di cui ho preso i seguenti numeri. Numero 16, 17, 18, 19. Ratman assolutamente lo adoro, non vedevo l'ora di prendere questi altri numeri che contiene sempre un sacco di gag, ma per non perdereci in altre chiacchiere continuiamo sempre con gli acquisti della Panini. Continuando con gli acquisti di Panini ci spostiamo alla Marvel. Quindi, direi subito di iniziare con Deadpool numero 14, esattamente dove Deadpool si sposa. Un albo che mi sono già mangiato, stupendo, sempre a ridere e leggere Deadpool. E cavolo, si fa ridere e leggere Deadpool. Sempre rimanendo a tema Panini, passiamo alle Tartaro Ninja TMNT. Un fumetto che si sta rivelando davvero figo. Avvengono avvenimenti molto maturi. E si rivelano sempre molto più fighi. E poi più avanti, ho visto già qualche spoiler di quello che è successo in America. Non ve lo dirò, ovviamente. E davvero figo. Rimanendo sempre a tema Panini, ma spostandoci sull'ambito Disney, Pick Up a Giant, il numero 6. Vi sono già letto anche gli altri numeri, antecedenti stupendi, bellissimi in Pick Up. Finalmente l'hanno rifatto, ma se volete sentire di più andate a vedere i video di Dario Moccia che parla meglio di Pick Up rispetto a me. Sempre rimanendo in tema Panini e sempre in tema Disney, Topolino la Black Edition. Che praticamente raccoglie tutte le storie noir di Tito Faraci. E' bellissimo da quello che mi dicono. Non vedo l'ora di iniziarlo. Adesso passiamo a vedere i manga. E rimaniamo sull'ambito Star Comics e GP. Spostandoci sui manga adesso ragazzi, andiamo direttamente alla Star Comics. Dove ho iniziato assolutamente, dove mi sono obbligato a iniziare una serie che non vedevo assolutamente l'ora di iniziare. Ovvero sto parlando di The Seven Deadly Sims. Numero 1 e numero 2. Non vedevo assolutamente l'ora di iniziarlo. Me ne hanno parlati bene in tantissimi. Ho letto un sacco di commenti positivi riguardanti a questo fumetto, a questo manga. E mi è piaciuto un botto. I primi due numeri sono stati davvero davvero fantastici. Non vedo l'ora di prendere gli altri. Sono 7 numeri. Prezzo di copertina. Sempre Star Comics, passando un personaggio molto più tamarro del solito. Torrico. Torrico numero 20. E Torrico numero 21. Prezzo di copertina. 4,30 euro. Torrico è fighissimo. È tamarro a livelli immaginabili. Power up in ogni capitolo praticamente. Stupendo. Sta prendendo davvero una bellissima piega. Spero continui per molto. E spero ci siano tante altre tamarrate assurde. Sempre rimanendo in tema Star Comics, passiamo ad uno dei giganti della Star Comics. Sto parlando di Dragon Ball Evergreen Edition, numero 42, che è finito. Questo è più spesso degli altri, perché Toriyama l'ha specificato che sarebbe stato più spesso. Prezzo di copertina. 4,90 euro. Sempre rimanendo in tema Star Comics, passiamo ad uno dei fumetti che più sto adorando e più adorerò per sempre. Ovviamente sto parlando di Le Bizzarre Aventure di Jojo, ovvero Stone Ocean. Il numero 11, nonché l'ultimo numero dei 50 numeri relative alle Bizzarre Aventure di Jojo. Prezzo di copertina 6,90 euro. Jojo è stupendo. Pardon, chiedo scusa, non 6,90 euro, ma 6 euro. Stupendo. Jojo è stupendo. Bellissimo. Sì, da tutti. Se non seguite Jojo, siete via. Via, via, via. Seguite Jojo e Jojo è bellissimo. Sempre rimanendo in tema manga, ma passando ad un'altra casa di eterice, ovvero alla GP manga, correlata alla J-pop e bla 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 bla. Aya Maioro numero 12. Prezzo di copertina 5,90 euro. Questo numero l'ho atteso un sacco, non vedevo l'ora che uscisse perché è stupendo. Aya Maioro è davvero stupendo. All'inizio l'ho sottovalutato, ma poi l'ho rivalutato ancora di più e è bellissimo. Ed ora passiamo ad altri di un altro gigante americano, sempre sulla sala da press, The Walking Dead. Numero 15 e numero 16. Non sto qui a parlare di The Walking Dead, ragazzi, perché è stupendo. Molto meglio la serie televisiva. Ho visto qualche puntata schifo. Il fumetto dieci volte mai poi Kirkman è un fottuto genio che sta facendo adesso Outcast, che è uscito adesso in Italia. Ho preso un'edizione normale, un'edizione limitata numerata. Stupendo. Assolutamente bellissimo. Ora spostiamoci. Sono a casa editrice italiana. Anche le altre erano italiane, comunque. Sto parlando della Bao Publishing, che finalmente ha, dopo qualche tempo, pubblicizzato i volumoni di un fumetto italiano che ho adorato. Sto adorando in questo momento perché non l'avevo mai letto. Sto parlando di Orfani. A prezzo di copertina di 27 euro, ma li vale tutti. Questo cofanetto con copertina rigida stupenda, bellissimo. Cioè, taule. Splendide. Bellissimo. Bellissimo, assolutamente bellissimo. Poi, andando in tema Games Academy, per la casa editrice Tonue. Il fumetto del mese del Games Academy è proprio questo, quindi andatelo a prendere. Sto parlando di Rughe. Prezzo di copertina 7,90 euro. Praticamente questo fumetto parla di questo vecchietto che vive la sua vecchiaia. Insomma, descrive di com'è la vecchiaia dei vecchi, appunto. E' interessante, me l'hanno parlato bene i ragazzi di Games Academy. Non vedo l'ora di leggerlo. Sempre rimanendo alla Tonue, ultimo acquisto della giornata, a livello fumettistico. Sto parlando di Beowulf. Non so se sarà il Beowulf del film o della leggenda, non lo so, ma sono troppo curioso di leggerlo. Prezzo di copertina 19,90 euro, questo bel plico. Copertina rigida, stupendo, spettacolare. E non vedo assolutamente l'ora di iniziarlo. Siccome me l'hanno consigliato i ragazzi di Games Academy, che saluto, ovviamente. Ricordatevi, fumetti del mese questi. Andateli assolutamente a prendere. Soprattutto Rughe. Di Paco Rocca. Ecco, non ho detto gli autori negli altri manga. Negli altri fumetti, chiedo scusa. E ultimo, ma non l'ultimo acquisto del mese, appunto. Sto parlando di una Action Figure. Questa è una Action Figure con tanto di Brown Box della SH Figures. Magari avete già intravisto anche il nome. Ultimamente la Games Academy sta importando tutte le Action Figure. SH Figures, appunto, con il Brown Box. Che è una cosa assolutamente da 100 e load. Non so neanche se esiste il 100 e load, ma chi se ne frega. Sto facendo davvero una grandissima cosa. Quindi se avete bisogno di un Action Figure, appunto, andate da loro. Che ve la sapranno consigliare, ordinare, darvi tutte le informazioni che volete. E adesso la andiamo anche a scappellare fuori dal Brown Box. Oh, è un momento di ansia e tensione. Non vedo l'ora di tirarlo fuori. Oh, tantissima, tantissima roba. Questo Broly lo sto aspettando da un sacco di tempo. Non vedevo l'ora di averlo tralando. Le mie rinfie. Guardatelo quanto è enorme. Solo la scatola è enorme. Enorme. Bene ragazzi, il video acquisti di aprile si conclude qui. Spero che il video vi sia piaciuto in quel caso. Mettete un like qua sotto. Se volete darmi una mano, aiutarmi, condividete il video. Commentate se vi sono piaciuti questi acquisti. Se i vostri acquisti appunto del mese. E niente. Il canale subirà un piccolo cambiamento, un piccolo mutamento. Cambierà. Non vi dico niente. Vedrete tutto più avanti. E niente ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Io sono Andrea, l'amico del Sword Out. Tutte le che sono figo che trovo io sono sempre Sword Out. Ad eccezione quelli del Games Academy a volte. E niente. Ci vediamo al prossimo video. Collezionate sempre. Mi raccomando ragazzi. E ciao. Continuando qui con questi panini ci spostiamo sul... Grazie.